Ciao, sono Ambra del Vergante.it e sono qua per parlarvi e farvi vedere una ricetta che abbiamo inventato noi con la quale abbiamo partecipato alla terza rassegna di Armeno dei giornalisti e fornelli. È una ricetta a base di pesce persico, molto semplice, molto sfiziosa, può essere anche una ricetta romantica. Per questa ricetta abbiamo bisogno un po' di prezzemolo tritato, il sale rosa e un po' di mandorle pelate. Utilizziamo circa 200 g di persico già sfilettato per persona. Ci serve un contenitore con della farina per andare a infarinare i nostri filettini. Poi abbiamo bisogno delle parti liquide, un po' di succo d'arancia fresco, un pochino, proprio un goccio di marsala a quello secco e un dito d'acqua a grosso modo. Poi abbiamo bisogno della buccia della scorza d'arancia tagliata a listarelle, mi raccomando che sia bio perché sennò i pesticidi ci fanno fuori, e un po' di foglie di salvia. Abbiamo inoltre bisogno un po' d'olio d'oliva, un po' di farina, che andremo a fare il roux che ci serve per legare il sughetto. Per prima cosa andiamo a fare il roux. Il roux non è altro che un miscuglio di olio e farina. Serve per legare il sughetto e farlo diventare bello denso. Vi siete mai chiesti al ristorante come fa ad essere così denso questo sugo e invece a me lo spezzottino rimane acquoso? C'è questo semplice trucchetto che adesso andiamo a fare. Allora, in una ciotolina andiamo a mettere un cucchiaino di farina, così grosso modo, e andiamo un pochettino a rompere eventuali grumi con una forchetta. Ecco qua. Poi prendiamo l'olio e ne mettiamo circa un cucchiaino sempre. Ecco qua. E facciamo amalgamare bene il tutto in modo che non si formino granuli. Ci beghiamo proprio due secondi e questo qua è una cosa molto utile che potrete usare anche per altre pietanze, altre preparazioni, altri sughi. Ecco qua. Non ci sono grumi ed è molto liquido. E abbiamo fatto il nostro roux. Adesso andiamo a infarinare i nostri filettini di persico. Molto semplicemente andiamo a mettere prima di infarinare la salvia e la schiacciamo bene. È come fare i salti in bocca. Molti cuochi per fare i salti in bocca, per far attaccare il prosciutto e la salvia, ci mettono suzzicadenti. Ma invece molto semplicemente, se si va a mettere la salvia prima di infarinarli, questa rimane attaccata e non si stacca. Si schiaccia ben bene e poi si vanno semplicemente con della farina bianca a infarinarli tutti quanti. Prendiamo via la farina in eccesso. Et voilà. I nostri persici sono infarinati. Per prima cosa andiamo a preparare il nostro sughetto. Su un fuoco medio-alto andiamo a mettere una padella con dentro una noce di burro e facciamo sciogliere un pochettino. Prepariamo le nostre scorzette d'arancia fatte a striscette, alla julienne, se vogliamo essere professionali. Andiamo a metterle dentro alla padella, facendo rosolare il burro. Dopodiché aggiungiamo il succo d'arancia e andiamo a sfumare tutto. Mettiamo anche il marsala e lasciamo caramellare un pochettino, rigirando nella padella. In modo che così l'arancia dà il suo sapore al sughetto. Andiamo a metterci due grattate di sale rosa. Se non avete sale rosa, anche quello normale, va benissimo. Voilà. Quando iniziamo a sentire un profumo di marsala, andiamo ad aggiungere l'acqua. Facciamo scaldare il tutto e quando è caldo andiamo a inserire il nostro roux. Andiamo piano piano a stemperarlo. Lo mettiamo a filo e lo giriamo con una forchetta. Piano piano, finché vediamo che fa una bella crema densa. Abbassiamo il fuoco e andiamo a cuocere ancora un pochettino, sempre stemperando con la forchetta in modo da non far male grumi. E questo serve per cuocere la farina del sugo. Se è troppo denso, andiamo ad aggiungere ancora un po' d'acqua perché la farina si addensa molto. Ecco qua. Giriamo ancora un pochettino in modo da avere un bel sughetto uniforme. E in ultimo andiamo ad aggiungere il prezzemolo che va sempre aggiunto in ultimo perché più rimane crudo, meglio è. Tiene i suoi principi, il suo sapore, le sue vitamine perché comunque fa molto bene il prezzemolo. Et voilà. Andiamo a spegnere il fuoco, diamo ancora una mescolata e il nostro sugo, vedete come è bello denso ed è pronto il nostro sugo. Adesso andiamo a vedere come fare il persico. Mettiamo sempre sul nostro fuoco medio alto un'altra padella. Ci mettiamo dentro un'altra noce di burro. Il burro serve per far rimanere i cibi morbidi e mettiamo anche un po' d'olio perché il burro ha un punto di fusione molto basso e quindi per non rischiare di bruciare tutto si mette anche l'olio. Deve essere bello caldo. Facciamo sciogliere bene il burro che deve sfrigolare. Intanto prendiamo i nostri bei filettini. È importante adesso per la prima frittura, così, di mettere la parte con la salvia al di sotto in modo che cuocia bene e si attacchi bene. Ecco qua. Adesso sta sfrigolando il burro, vuol dire che è pronto. Mettiamo piano piano i nostri filettini. Il pesce è abbastanza delicato e il persico in particolare cuoce subito. Non ha bisogno di una cottura esageratamente lunga. Ecco qua. Andiamo a mettere il nostro sale. Volendo si può aggiungere anche un po' di pepe, però il persico è già molto delicato per sé, quindi se si vuole si può aggiungere, ma va anche bene di no. Facciamo cuocere bene da questo lato. Facciamo diventare un po' croccantino e con una paletta giriamo. Vedete che la salvia lì è al suo posto. Lasciamo cuocere ancora un pochettino. E quando la cottura è quasi ultimata, andiamo a mettere le nostre mandorle che tosteranno leggermente nel misto di olio e burro. Ecco qua. La mandorle è particolarmente indicata per il pesce perché ha un sapore molto delicato. Si possono usare anche i pistacchi, i pinoli però sono meglio con la trota che ha un sapore più forte. Adesso andiamo a irrorare la nostra pietanza, i nostri filettini, con il sughetto che abbiamo fatto prima. Lo facciamo colare bene su ogni filettino in modo che prenda il sapore. Vedete com'è bello denso? E anche se è tiepido va bene lo stesso perché tanto il pesce è caldo e lo riscalda. Io avevo già preparato un piatto con su delle patate e delle carote al prezzemolo, molto semplicemente bollite con un po' di olio, sale e prezzemolo che è il contorno ideale per il pesce perché è molto delicato. Andiamo a prendere i nostri filettini, la nostra pinza e andiamo a impiattare il tutto. Attenzione col persico perché è molto delicato, rischiate di rompere i filettini. Dovete fare molto molto delicatamente. E così siamo a posto. Il nostro piatto è pronto per essere gustato. Vi aspetto alla prossima videoricetta. Ciao!